Con decreto del Presidente, la provincia di Salerno ha approvato la proposta del settore patrimonio ed edilizia scolastica per interventi di manutenzione e di miglioramento strutturale e impiantistico degli edifici scolastici. Gli interventi riguardano l'adeguamento alla normativa antincendio e la messa in sicurezza al fine di fronteggiare situazioni emergenziali in cui è concreto il rischio di interruzione del servizio. I fondi erogati dalla Regione sono divisi in due annualità, 915.000 euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. 6 le scuole selezionate per il 2018 e 6 per il 2019.